È un bel bambino di nome Leonardo, il primo nato nell'anno nuovo in provincia di Pesaro Urbino. È nato nel nuovo punto nascita dell'ospedale San Salvatore alle 6.02 del 1 gennaio ed è figlio di Ivanova Maia Petrova e di Giacomo Dominici. La mamma, una musicista, è originaria della Bulgaria ma ora vive a Pesaro con il marito. Mamma e il piccolo, che pesa 2,900 kg, godono di ottima salute. In totale sono stati 1.500 i parti che si sono svolti in provincia, di cui 932 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Fano che, fino al 5 dicembre scorso, ha svolto il ruolo di centro nascita unica per Pesaro e Fano. 21 sono poi seguiti a Pesaro, 50 sono i bambini nati nel punto nascita Covid, mentre i restanti sono nati nell'ospedale di Urbino. È il dottor Paolo Perella che in questi giorni sostituisce il primario, il dottor Claudio Ciccoli, a fare un consuntivo dell'attività del reparto fanese. C'è un problema, il calo delle nascite, un calo che è a livello nazionale e che si ripercuote anche nel nostro territorio, è vero? Sì, è probabilmente per ragioni socio-economiche. Anche da noi, guardando anche gli altri ospedali, c'è un calo fisso in tutti gli ospedali della regione. A Fano, Pesaro, perché comunque fino al 5 dicembre eravamo un punto nascita unico, ci sono un calo di circa 90 nascite che è in media con quella regionale e quella nazionale, diciamo. Eravamo 1090 parti, siamo poco più di 1000, quindi c'è stato un calo che è fisiologico. Adesso speriamo che piano piano si trovino degli incentivi per le coppie, per fargli fare i figli un pochino di più. Quali sono i servizi che garantisce il reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Croce? I principali servizi sono rimasti qua, quindi abbiamo il servizio di stereoscopia diagnostica, il servizio di colposcopia, quindi tutta la patologia cervicale è rimasta su Fano, tutta la patologia ostetrica, diciamo le ocografie estetiche sono rimaste su Pesaro e poi abbiamo una discreta attività di sala operatoria che è anche quella su due ospedali un po' a Pesaro, un po' a Fano. Comunque la maggior parte delle attività ambulatoriali e in dei ospedali sono rimaste su Fano. Facendo il consultivo dell'anno il dottor Perella ha analizzato anche l'andamento dei parti cesarei. Dei 299 tagli, quelli non programmati sono risultati 180, il che significa che facendo una media con i mille tra i nati a Fano si ricava una media sotto il 20% in linea con le direttive della regione. Tra l'altro nel reparto di ostetricia del Santa Croce viene praticato anche il parto in dolore. Sempre richiesta della donna, noi adesso sta per partire una donna che ha il suo apparto analgesia che è gratuita 24 ore su 24. Deve nascere da un'esigenza della donna, però noi cerchiamo di soddisfarla sempre. Gli anestesisti fanno un grandissimo lavoro perché sono di solito rappresentate dal medico di guardia che appena può e viene chiamato, arriva e di solito le donne ne usufruiscono e hanno un buon miglioramento diciamo. Assicurata anche l'emergenza neonatale pediatrica, nonostante le difficoltà di personale, l'urgenza ostetrica è sempre garantita. In reparto lavorano 14 medici in attività, più alcune colleghe in gravidanza anch'esse. Per turno operano poi due ostetriche fisse più le infermiere. Quindi auguriamo un nuovo anno prolifico. Per noi se dovessimo lavorare di più saremo tutti contenti insomma.